musica 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 che cosa che cosa che cosa è vabbè fermi tutti che carino no chi è? no penso siamo un tuo compagno chi è fuori ma è un compagno che che ma che ma io ho sparato venora che cosa ho le mani che non va che cosa ho perchè ballo la breakdance aiuto vabbè io ho presa così bello perchè lui è eterno e non è morto ha iniziato in modalità carrà tanti auguri ma è la granata sono velocissimo pattino come stessi sulla neve ma hai ne scarpone hai anche la granata sparagli da dietro cosa fa? a schiaffi sulle chiappe tiè si sta cacando addosso aspetta aspetta me scappa me scappa me scappa me scappa vabbè io me ne vado 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 io ho l'aereo no aiuto 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 la macchina via la macchina è finta è un prototipo è un aereo più l'aereo abbiamo il brevetto non lo so lo scopriremo tra un attimo penso che tu la bandiera non puoi mi sto per non posso salirci posso guidare sto cazzarola di aereo? siamo cranchi non mi prendi? non mi prendi anfa tararararara tararara bella mira c'ha questo si io voglio andare sull'aereo no no maledetto una sua patata a coso ma perchè? i pop corn si si ho un bazooka e non ho paura di usarlo dov'è? dov'è? vi è fuori mostrati mostrati a me mori niente niente che cosa fa? che cosa fa? ho lanciato la granata da morto che cosa fa? ma mi è esploso il cu maledetto perche? vai ecco tieni nooo abbiamo cambiato ah i nooo però nooo perche a Grazie a tutti.